Per ora sappiamo nomi e titoli dei romanzi, ma in attesa della serata conclusiva, i cinque scrittori finalisti del premio Campiello Letteratura, designati a Padova Palazzo del Bo, saranno impegnati tra giugno e luglio in una specie di road show tra Venezia, Castelfranco, Ravello, Asiago e Cortina, per incontrare il pubblico dei lettori. Ad aver avuto l'arduo compito di scegliere la rosa dei migliori, è toccato anche a lui il regista Giuseppe Tornatore, presidente della giuria dei letterati, che ci confessa di aver letteralmente divorato i libri candidati in questi quattro mesi. Non mi sono portato dietro il mio mestiere o la filosofia della parentela tra cinema e letteratura, mi sono divertito a leggere. Non è il primo presidente della giuria del Campiello regista, prima di Tornatore sono passati Michelangelo Antonioni, Michele Placido e Lina Wirtmuller. E così Tornatore, da ottimo traduttore della letteratura italiana in cinema, ha anche subodorato quali trame potrebbero potenzialmente rendere tutta la loro efficacia in pellicola. Ci sono molti libri, molti racconti, molti romanzi che si potrebbero senz'altro prestare a diventare dei film, sicuramente ce n'è diversa e non escludo che qualcuno lo possa diventare. Se lei si riferisce a me non ho preso in considerazione queste ipotesi. Tutti i romanzi di alto livello, la voce unanime della critica, tra i 43 selezionati al 10 maggio c'erano anche quelli di giornalisti e volti noti del piccolo schermo come Alenel Kahn e Gad Lerner. Il dato di quest'anno è particolarmente curioso. La quantità di libri che si sono arrivati sono molto più alti di prima. E la qualità trasversale di questi libri è riuscita anche a coinvolgere la psiche di un vecchio cinico come me. Il che vuol dire che l'Italia torna a scrivere. Allora è probabile che se torna a scrivere vuol dire che è tornata a pensare. E se l'Italia fosse tornata a pensare si aprono orizzonti inattesi. Il presidente degli industriali del Veneto spinge l'acceleratore proprio sul fatto che la promozione della cultura sia un valore fondante del premio. Parliamo di un percorso molto lungo che è andato arricchendosi di stimoli e anche di partecipazione. Quindi la nostra è una risposta positiva. In questo senso pensiamo di essere dei buoni testimoni. Speriamo anche di concorrere a coinvolgere altri in questa visione. Ora la palla passa ai 300 giurati popolari che avranno tutta l'estate per leggere e votare tra i cinque finalisti il libro che uscirà vincitore e che sarà premiato il 4 settembre prossimo al Teatro La Fenice di Venezia.